Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Durante un giro tondo, tornarono a scuola e imitò perfettamente, in modo da par suo, l'allora ministro dell'istruzione che era la Moratti. L'istituto Moratti. Fece una caratterizzazione spesa. Ci hai dato ormai un indizio quasi definitivo, perché chi è che fa la migliore imitazione al mondo di Letizia Moratti, se non Paola Cortellesi. Ciao a tutti. Ciao Paola. Ciao, buonasera. Ciao Massimo, ciao Roberto. Ma ti ricordavi questo aneddoto? Cioè è vero? Come no, certo. Io ho sempre il dubbio che lui si inventi un po' le cose. No, ma io me le invento. No, 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 è vero, è verissimo. Intanto è vero che conosce tutti. E noi ci siamo conosciuti in quell'occasione. È vero. Andai a fare, facevo la parodia dell'allora ministro dell'istruzione Letizia Moratti. Faccelo sentire, 10 secondi. Faccelo ricordare. No, iniziai salutando un po' tutti, dicendo ciao poveri! Ciao poveri. E poi... Erano i professori, erano i poveri. Senti, senti Paola, lo vogliamo dire, non diventare rossa subito, però ragazzi, se l'estate è stata l'estate di Barbie, l'autunno è l'autunno di Delia. Perché il film...